La musica di Johann Sebastian Bach in luoghi della memoria torinesi. L'iniziativa è del Museo Diffuso, che con il Comitato Resistenza e Costituzione ha promosso il progetto Backup Unconventional Bach, proposto un repertorio del musicista tedesco in concerti ospitati nella sede del museo, al Teatro Torino, nella sinagoga e nel rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento. Suonare Bach nei luoghi della Resistenza vuol dire provare a ridare un suono, non potendo più ridare a una voce, alle ansie, alle paure, alle aspettative dei protagonisti di quel tempo a cui non riusciamo più a fare delle domande e quindi proviamo a dargli un suono con le suite per violoncello solo. Bach lo fa benissimo.